Questa battuta è fortissima, non la conosce nessuno Un daino o un altro daino? Giochiamo al nascondaino? Daino... Chi si è battuto su? Aspera... No, 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 no! Tu, padre, sei chi si è battuto! Alla falla finì! Ma che devi finire? Signor Marranca, io mi sono stancato di queste cose Ti fa zuccare fuori i miei figli perché veramente un po' più travagliare e chiudia Casi, figlio mio! Chi si è battuto su? Chi si è battuto su? Sono uguali, padre e figlio sono uguali Una frase a mio figlio! Non devi buttare fuori me, capito? No, no, no! Il signor Marranca, no! Devi buttare a lui! Guarda... Cos'è il suo che fare? Fuori, fuori! Fuori! Buonissimo che ha messo la tua mamma! Un applauso a mio figlio! Guardate! Lui è uno che comanda! Lui è un siciliano vero! Uno che insegna il suo figlio a fare questo lavoro! Bravo! No, è finito, papà! Che è successo? Ma mamma non vuole che ha fatto il suo lavoro! Ma mamma non vuole che ha fatto il suo lavoro! Ma mamma non vuole che ha fatto il suo lavoro! Ma forse non ha capito niente! Non vuole che ha a casa! Comando io! Hai capito? Comando io! Comanda la casa! Ma che famiglia è? Amore mio! Amore mia moglie! Comanda la casa! Hai ragione! Comandi tu! Ma come comandare? No, no, vabbè! Comanda in tutto! Solo in una cosa non comanda! Certo! A ora di vedersi la televisione! Comando io! Infatti stasera ne vedremo la partita! Sì! Ne vedremo c'è posta per te! Cosa? No, no, amore mio! C'è posta per te! Non è che ci può passare tutta la serata a cancellare il Noltevano! Meglio che chiedere tutti a noi! Sono lì! Aia! Aia! Silingata! Ma lei pure che... Silingata! Amore! Ma lei sta passando per te! Non lo capito! Stai passando per me! Ma chi si è battuto su? No, papà! Chissà! La verità! La bocca della verità! La piccerita! No, no, no!